Il secondo giorno di ispezioni negli ospedali molisani, funzionari inviati dal ministro Speranza ieri per sei ore al Cardarelli, stamattina sopra il luogo al Santimotio di Termoli, al Vietri di Larino, con loro i carabinieri del NAS. Due morti e 84 positivi, ancora casi a Campomarino, nell'ultimo bollettino i decessi di due anziane di Palata e Venafro, peggiora la situazione nel centro costiero, ieri altri 19 contagiati. Trasporti nel caos, protesta davanti alla prefettura, stamattina manifestazione sindacale per denunciare le tante criticità del settore. I lavoratori chiedono stipendi regolari e di risolvere la questione dei biglietti in emergenza Covid. Shoah, menzione d'onore per il Manu Pella in occasione della giornata della memoria, cerimonia quirinale in videoconferenza e riconoscimento per l'istituto di Isernia. Lo ha conferito il Ministero dell'Istruzione. Turno infrasettimanale tra gioie e dolori, vincono e convincono Campobasso e Vasto Girardi. La Re Canatese si impone invece ad Agnone, basket femminile. La Molisana si aggiudica il recupero di Sassari. Buon pomeriggio dalla redazione di Tere Molise. Dunque, l'avete sentito ancora in primo piano la visita degli ispettori inviati dal Ministro della Salute e Speranza negli ospedali molisani. Ieri giornata intera dedicata al Cardarelli di Campobasso, questa mattina invece sopralluoghi nel Basso Molise, prima al Santimoteo di Termoli, poi al Vietri di Larino. Partiamo proprio dal Basso Molise, ha seguito la mattinata Manuela Iorio. Secondo giorno di ispezione dei tecnici del Ministero qui in Molise. Ieri sono stati al Cardarelli di Campobasso, oggi intorno alle 10 sono arrivati a Termoli, qui al Santimoteo. Hanno ispezionato prima il pronto soccorso, l'area della rianimazione e poi si sono diretti verso i reparti. Cinque tecnici inviati dal Ministero della Salute Roberto Speranza sono arrivati accompagnati dai carabinieri del NAS. L'ispezione è iniziata dal pronto soccorso e dal reparto di emergenza, dove si trova l'area grigia e dove è stata allestita una zona con posti letto riservati ai pazienti affetti da coronavirus e in attesa di trasferimento al Cardarelli di Campobasso. Il compito dei tecnici è quello di verificare il rispetto dei protocolli anti-Covid e soprattutto la separazione dei percorsi. Dalla medicina d'urgenza si sono poi spostati negli altri reparti del Santimoteo per verificarne l'organizzazione. Gli ispettori hanno ascoltato medici e personale in servizio. La visita è durata un paio d'ore e nulla è trapelato sull'esito delle verifiche, anche se non sarebbe passata inosservata la carenza di personale. Lunghi silenzi e solo due parole, nessuna dichiarazione di fronte alle domande su eventuali criticità riscontrate al Santimoteo. Finita l'ispezione all'ospedale di Termoli, i tecnici si sono diretti al Vietri di Larino per visitare l'ospedale che oltre 100 sindaci del Molise e lo stesso commissario Angelo Giustini avrebbero voluto trasformare in centro Covid. Qui, a differenza di Termoli, dove non c'erano vertici dell'ASREM, erano presenti anche il direttore generale Oreste Florenzano, quello sanitario Virginia Scafarto e c'era anche il direttore di distretto Giovanni Giorgetta. La delegazione del Ministero al suo arrivo al Vietri ha trovato anche il sindaco Pino Puchetti che ha chiesto di poter partecipare all'ispezione in veste di autorità sanitaria locale, ma non è stato possibile. Adesso facciamo un passo indietro perché la parte più importante di questa ispezione ministeriale è stata sicuramente quella della giornata di ieri, cioè l'ispezione al Cardarelli di Campobasso che non a caso è durata l'intera giornata, sei ore di sopralluoghi e di incontri, colloqui all'interno del Cardarelli. La cronaca nel nostro servizio. Mancano pochi minuti alle 17.30 quando si conclude la lunga, lunghissima giornata di ispezione al Cardarelli di Campobasso. Gli ispettori inviati dal Ministro della Salute e Speranza escono dall'ospedale insieme ai militari del NAS che li hanno accompagnati passo passo in ogni sopralluogo. L'ispezione era cominciata sei ore prima, erano infatti le 11.30 quando i funzionari, in tutto cinque persone, giunti da Roma a bordo di un pulmine o di un'altra auto insieme ai carabinieri, erano arrivati a Tappino. Poche ore dopo in ospedale sono arrivati anche i vertici del NASREM. Il direttore Oreste Florenzano e il direttore sanitario Maria Virginia Scafarto, un'ora più tardi, li ha raggiunti il direttore della salute della regione Lolita Gallo. Gli ispettori hanno avuto una serie di colloqui, poi hanno ispezionato vari reparti dell'ospedale. Infine nel pomeriggio la visita ai locali del pronto soccorso. All'uscita no comment sull'esito dei controlli e solo la conferma che l'ispezione non finisce qui. Posso sapere come è andata questa ispezione? Potete dire qualcosa? È finita almeno questo potete dire? No, ancora no. Quello che è certo è che gli ispettori sono stati inviati da Speranza e Molise per verificare la correttezza delle procedure sanitarie per fronteggiare il Covid. Questo anche in seguito alle segnalazioni del commissario Giustini, di alcuni sindaci, comitati e anche dopo la protesta dei parlamentari 5 Stelle sotto alla sede del Ministero. Il commissario Giustini, interpellato per un commento sull'ispezione, si è limitato a dire che per lui si tratta di un atto dovuto. Il presidente della regione Toma invece ha detto che è giusto che gli ispettori facciano il loro lavoro. Ha però anche reso noto che per tutelarsi rispetto alle segnalazioni fatte da Giustini ha dato mandato al direttore generale della salute Lolita Gallo di fare una verifica di quanto sostenuto dal commissario stesso e di averne un riscontro. C'è ben poco da dire quando in un ospedale cardine di una regione punto di riferimento per un vasto bacino di utenza in piena pandemia si rende necessaria la presenza di ispettori del Ministero della Salute coadiuvati e addirittura dei militari del NAS per verificare il corretto andamento e la gestione dell'emergenza sanitaria. Lo afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up. Come sindacato prosegue, avevamo sollecitato l'invio degli ispettori perché di ispettori c'è bisogno laddove la carenza cronica di personale, le deficitarie misure di sicurezza per i professionisti della salute. I turni massacranti e la discutibile organizzazione delineano da mesi un quadro desolante in cui gli infermieri sempre più spesso sono le vittime sacrificali, ha concluso De Palma. E adesso veniamo ai numeri della pandemia. Su 781 tamponi processati ieri, vediamo anche la grafica, ci sono 84 nuovi positivi. Purtroppo anche due nuove vittime, si tratta di due donne che erano ricoverate in malattie infettive a Cardarelli, una 87enne di Palata, un'ottantenne di Venafro. Nel bollettino anche 68 guariti. Per quanto riguarda la situazione in ospedale, due nuovi ricoveri e sono ora 57 i pazienti ricoverati. Nel dettaglio tra i nuovi positivi, sempre più pesante la situazione di Campomarino con altri 19 contagiati nelle ultime ore. Altre 11 contagi anche a Frosolone. E sono diversi i comuni dove le scuole sono ancora chiuse. Gli ultimi due casi a Pozzilli e a Torella per casi di positività tra gli studenti. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Chiuse tutte le scuole a Pozzilli. Il sindaco Stefania Passarelli ha preso la drastica decisione dopo che un alunno è stato trovato positivo al Covid-19. Infanzia, primaria e media riapriranno il 2 febbraio, dopo la sanificazione del plesso scolastico. Stessa decisione del sindaco anche a Torella del Zannio, dove Antonio Lombardi ha chiuso tutte le scuole del paese perché è stato trovato positivo al Covid-19 un ragazzo della terza media. Ho dovuto chiudere la scuola perché c'è stato il caso di un ragazzo positivo e non di Torella, che fa scuola a Torella, della terza media, che io già avevo chiuso la terza media, adesso è risultato positivo perché aveva dei sintomi. Per precauzione ho dovuto chiudere la scuola per tre giorni, quindi insomma per sanificare, per bene. Io credo che è tutto sotto controllo, però aspettiamo nuovi risultati. Le scuole riapriranno lunedì dopo la sanificazione, ma Lombardi è preoccupato anche per la casa di riposo in funzione a Torella. La mia comunità che purtroppo ha due parti deboli, che ho la scuola con 150 ragazze, poi ho la casa per anziani che adesso domani mi pare che fanno il secondo vaccino, quindi è tutto sotto controllo, però purtroppo c'è stato questo caso di questo ragazzo che comunque credo e spero che tutto si risolva nel meglio. Infine la solita lamentela dei sindaci per le difficoltà nelle comunicazioni in tempo reale sui positivi e sulle guarigioni. Purtroppo sì, non c'è sinergia tra l'ASREM e i comuni, non c'è sinergia. Questo fatto è un po' problematico e anche, credo e spero, un po' pericoloso perché non ci corivolgono. Mi hanno detto ieri sera che a breve scadenza c'è stata una nuova posizione, una situazione tra l'ASREM e i comuni. Speriamo bene, almeno sappiamo, se ci sta qualche criticità, speriamo di saperla almeno in tempi effettivi. Perché se una persona è negativa e per 10-15 giorni anche di più l'ASREM ci manda che quello è positivo, io non so a chi devo credere. Al certificato che fanno per la negatività e poi mandano ai comuni che questa persona è ancora positiva. Qualcuno mi deve spiegare perché questa disfunzione. E vediamo adesso anche un aggiornamento sui vaccini ad oggi. Le dosi somministrate in Molise sono 8.176, le prime dosi sono 6.717 e sono invece relative alla seconda somministrazione 1.459 dosi. Al momento sono stati utilizzati solo i vaccini Pfizer in attesa che arrivino anche in regione, quelli di Moderna. Locale con la porta d'ingresso sbarrata, ma all'interno i clienti continuavano a consumare bevande e a giocare a carte e a biliardo. E quanto hanno scoperto i carabinieri di Zegna durante una serie di controlli alle attività commerciali per verificare il rispetto delle attuali norme anti-Covid. Il locale in questione continuava ad operare anche dopo le 18. Sette clienti che sono stati sanzionati insieme al titolare del bar. Complessivamente elevate multe per 3.200 euro dell'episodio. È stata informata la prefettura che dovrà ora valutare un eventuale provvedimento di chiusura dell'attività commerciale. Adesso parliamo di recovery plan e dei progetti presentati dalla regione Molise. Complessivamente sono 67 per un ammontare di circa 3 miliardi di euro. Dalla CGL arriva un allarme. Progetti che rischiano di non partire per l'assenza di uno studio di fattibilità. Ci colleghiamo con Pasquale Di Bello, con lui c'è Franco Spina che è il segretario regionale della CGL di Abruzzo e Molise. Sì Enzo, grazie per la linea. Siamo nella sede regionale della CGL qui a Campobasso. Insieme a noi c'è Franco Spina, segretario regionale CGL Abruzzo e Molise. Parliamo di recovery plan e delle criticità che presentano i progetti che la regione Molise ha mandato a Roma. Allora, Franco Spina, di che cosa si tratta? Si tratta di uno strumento straordinario, quello del recovery plan, che noi non possiamo mancare. Invece, chiaramente, di presentare 67 progetti con una logica che è esclusivamente quella di recuperare quello che c'è e di provare a ottenere qualche finanziamento, bisogna intervenire seriamente perché le criticità sono nei tempi, nei modi e nelle forme di approvazione di questi progetti. Deve essere chiaro che entro 60 mesi bisogna aver concluso tutte le opere. Qui ci sono progetti che ancora devono fare lo studio di fattibilità, quindi dobbiamo capirci se vogliamo fare sul serio e rendere operative e superare qualche criticità territoriale a partire dall'infrastruttura e bisogna avere progetti o già operativi e quindi che vanno completamente o opere che sono immediatamente candelizzabili. Da parte della CGL c'è questa indicazione di fare squadra insieme alle altre regioni, soprattutto del sud, di questo avete già parlato in un vostro precedente incontro. Assolutamente sì, in Molise da solo non va da nessuna parte, nemmeno le altre regioni da solo vanno da nessuna parte. C'è bisogno di fare squadra, c'è bisogno di porre il tema del mezzogiorno, c'è bisogno di ottenere i finanziamenti proporzionati a quelli che sono il PIL delle regioni, quindi più risorse per le regioni che sono più indietro, quindi in mezzogiorno, ma c'è bisogno di un'idea complessiva. Ecco perché il Molise si deve agganciare in un'idea vera di sviluppo del mezzogiorno e non a microprogetti che possono e debbono essere finanziati anche con gli strumenti ordinari. Bene, allora Enzo ti restituisco la linea qui dalla sede della CGL di Campobasso. Bene, grazie Pasquale, grazie anche al segretario della CGL Spina. Noi parliamo ancora di sindacati, ma nello specifico di trasporti, perché stamattina c'è stata una protesta davanti alla prefettura di Campobasso per denunciare le criticità di questo settore. Per noi c'era Tonino Danese. La Faisa Cisal parla di disastro del trasporto pubblico regionale. Oltre all'utenza a soffrire sono anche i dipendenti. Hanno evidenziato i manifestanti riuniti davanti alla prefettura di Campobasso troppe le criticità portate all'attenzione del prefetto, tra cui i ritardi nei pagamenti degli stipendi da parte di alcune aziende di trasporto, ma non solo, ha sottolineato il sindacato. Tragico il trasporto molisano, quindi dalla vetustà dei mezzi, all'ingiustificata, diciamo, perché la regione paga dal 2011 sia l'ammortamento sia la manutenzione, ai contratti generali di secondo livello che non vengono stipulati, pur avendo la regione contribuito. Tra i problemi è anche quello della biglietteria in tempo di Covid. La biglietteria da parte degli autisti. In questo momento in cui c'è un'emergenza di pandemia, aumentare il rischio anche agli autisti si rischierebbe di incorrere in una mancanza di mezzi e anche in una mancanza di autisti che potrebbero guidare. Ma poi ci sembra assurda la situazione perché il DPCM, cioè le leggi che ha approvato il Parlamento per contenere la pandemia, prevedono espressamente il divieto di vendita da parte degli autisti. L'autista, anche perché se si dovesse tenere quello che è successo, far scendere l'autista e far fare la bigliettazione a terra, dovrebbe farla facendo, insomma, disagiando anche l'utente, perché dovrebbe spegnere l'autobus, scendere, essere munito chiaramente di mezzi di protezione, risalire, riaccendere, riscaldare il mezzo e ripartire l'autenza quando arriva. Come risolvere il problema? Esclusivamente nelle biglietterie a terra, oppure, visto che il DPCM lo stesso insiste in queste questioni, farla in maniera telematica, in maniera elettronica, cosa che è possibile in tutte le altre regioni, tranne Molise. Istanze che sono state portate anche all'attenzione della regione a cui sono stati chiesti dei correttivi. Noi abbiamo provato, anzi, abbiamo chiesto direttamente alla regione di applicare alcuni correttivi al suo modo di agire, quindi alcuni correttivi che lei potrebbe senz'altro applicare, fra cui il ritiro, per esempio, del contributo del contratto di secondo livello, sino a che le aziende stipulano il contratto. Di queste 4-5 richieste che noi abbiamo fatto alla regione non ce n'è stata accolta manco una, eppure sarebbe necessario per riequilibrare il distorto rapporto che c'è fra azienda, regione e anche organizzazioni sindacali. Adesso torniamo alla cronaca, perché i carabinieri hanno arrestato in flaganza di reato due giovani di 22 e di 20 anni a seguito di altrettante perquisizioni domiciliari effettuate nelle case dei due a Montenero di Bisaccia. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione abusiva di armi. In casa, vedete le foto dei carabinieri, i militari hanno trovato 43 grammi di hashish, piccole quantità di eroine e marijuana, materiale vario per il taglio e il confezionamento di stupefacenti, una cartuccia, due tirapugni in metallo, una stella con punte di tipo ninja e oltre 500 euro, probabilmente provento di attività illecite. Nella seconda abitazione trovati invece una cassaforte con all'interno involucri di cellophane contenenti 156 grammi di hashish, un petardo di grosse dimensioni, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 5 bilancini di precisione. I due si trovano in carcere a Larino. Adesso torniamo a parlare di sanità perché c'è attesa per la sentenza che dovrà decidere sulla sopravvivenza del punto nascite di Termoli. Il tar è entrato nel merito della sospensiva del provvedimento di chiusura decisa dal commissario Giustini. Chiudere oggi in piena pandemia significherebbe lasciare le donne del basso Molise senza assistenza sanitaria. Sentiamo. C'è attesa per la sentenza del tar Molise che deciderà la sopravvivenza o meno del punto nascita del Santimotio di Termoli. A distanza di un anno e mezzo dalla sospensiva del provvedimento di chiusura a firma del commissario Giustini si è svolta l'udienza di merito. Le posizioni dei vertici dell'Asrem e della struttura commissariale sono rimaste ferme. Il reparto va chiuso perché non si arriva ai 500 parti l'anno, sostenendo che non ci siano nemmeno le ambulanze per il trasporto dei neonati. Le donne in procinto di Partoriro dovrebbero rivolgersi al Campobasso, a Vasto e a Chieti. Di diverso avviso invece i legali che hanno rappresentato gli interessi dei comuni del basso Molise, e cioè Vincenzo Fiorini, Enzo Iacovino, Silvio Di Lalla e Massimo Romano. Ha partecipato anche l'avvocato Laura Venitelli in difesa del ricorso presentato da 13 mamme. Se era una follia chiudere un anno e mezzo fa il punto nascita di Termoli lo è a maggior ragione oggi con la pandemia in corso e con il Cardarelli centro Covid. Le mamme del basso Molise rischierebbero di restare senza assistenza sanitaria. Questa è la tesi avanzata dai legali Fiorini e Venitelli collegati da remoto, che hanno sottolineato anche la crescita esponenziale delle nuove nascite di fronte al principio di condizionalità avanzato dall'avvocatura di Stato, secondo cui resta aperto il punto nascita di Sernia o quello di Termoli. Insomma, ancora questioni sul filo dei numeri, sulla fredda logica delle risorse finanziari che si scontrano con il diritto all'assistenza sanitaria. L'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca, con l'ausilio degli avvocati Jean-Paul e Filippo De Iorio, ha presentato un esposto protocollato alla Corte dei Conti per accertare eventuali danni e responsabilità per danni alla regione Molise riguardo il continuo prelievo di acqua dall'invaso di Occhito da parte della regione Puglia. Secondo l'esposto, si disattende il deliberato delle due amministrazioni che rimandava a successiva e mai definitiva e definita regolamentazione a ristoro. La speranza, ha commentato Ciocca, è che tale azione possa essere redimente per il Molise e soprattutto agitare le coscienze per impedire ulteriori approvvigionamenti. Preoccupa, ha chiuso Ciocca, il silenzio ormai assordante delle istituzioni regionali. Adesso torniamo a parlare della giornata della memoria che è stata celebrata ieri. Al Quirinale c'è stata una cerimonia, seppure in videoconferenza. Durante questa cerimonia c'è stata una menzione speciale per una scuola molisana che è l'Istituto Manupella di Isernia. Ce ne parla Barbara Fino. Ecco come le parole diventano arte, pagine di storia, di vita. E' un viaggio tra volti scolpiti ma infranti dal dolore. Nel dolore dell'anima ancora un pezzo di vita. Nella giornata della memoria celebrata ieri in Italia e nel mondo per commemorare le vittime dell'Olocausto, il liceo artistico Manupella di Isernia ha ricevuto una menzione d'onore grazie al lavoro, i giovani ricordano la Shoah, partecipando al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Due i video, differenti ma compresi sotto lo stesso titolo, realizzati dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Semplicità del seno, macchie, come specchio di vita. La cerimonia di premiazione si è svolta al Quirinale, anche se a distanza. I video, meritevoli della menzione, sono stati realizzati durante i mesi della seconda ondata del Covid, a cui gli studenti hanno collaborato attraverso la DAD. La realizzazione dei due video, ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Teresa Vitale, ha richiesto un'intensa attività di ricerca e studio di fonti e materiali storici, artistici e letterari. Da qui è nata la rilettura in chiave contemporanea del diario di Anna Frank, riproposto in un monologo interpretato da una studentessa. Ah, quasi dimenticavo! Io sono Anna, Anna Frank, e sono nata il 12 giugno del 1929 a Francoforte. Però, siccome sono ebrea, io e la mia famiglia ci siamo dovuti trasferire in Olanda nel 1933. Poi le visite virtuali dei luoghi simbolo dell'Olocausto e dei musei hanno rappresentato l'ispirazione per il secondo video, una galleria di opere di arte contemporanea plasmate dagli studenti, volti, colpi stilizzati e un corpo di donna che reca i segni dell'aberrante disumanità del nazifascismo. La Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Campo di Pietra per la realizzazione dell'intervento sviluppo turistico lungo i tratturi molisani, incluso nel CIS Molise, con una dotazione finanziaria di oltre 129 milioni di euro. Il Comune di Campo di Pietra ha predisposto lo specifico studio di fattibilità successivamente fatto proprio da altri 58 comuni e da un consorzio di bonifica per la realizzazione di interventi omogenei sulla rete dei tratturi molisani e di azioni puntuali che interessano gli enti coinvolti. È prevista la realizzazione di strutture ricettive, parcheggi, aree di sosta per campere e laboratori artigianali per la produzione, la degustazione e la vendita di prodotti locali. Un'ultima notizia prima di chiudere. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravino ha espresso in una nota la sua vicinanza al sindaco di Torino Chiara Appendino condannata in primo grado ad un anno e sei mesi nel processo per la tragedia di piazza San Carlo in cui persero la vita tre persone. Chiara con il grande senso di responsabilità istituzionale che le è proprio, afferma Gravina e che contribuisce a fare di lei da sempre una persona credibile non solo politicamente ha subito avuto modo di dichiarare pubblicamente che per quanto amareggiata accetta e rispetta il giudizio espresso in questo primo grado anche e soprattutto in virtù del ruolo che riveste. Ha voluto sgombrare il campo a testa alta da qualunque interpretazione possibile facendo sapere che non ha e non avrà alcuna intenzione di sottrarsi a queste responsabilità. Sono ancora le parole di Gravina che esprime vicinanza al sindaco di Torino. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro Tg, vi lascio al meteo, poi come sempre ci sono le notizie sportive. Grazie per averci seguiti fin qui, buon pomeriggio.